Si chiama Kathleen Krause, donna 57enne di Westcott, nello stato del Wisconsin, stati emili d'America ovviamente, e la donna avrebbe preparato dei biscotti particolari, infatti avrebbe messo all'interno degli stessi delle piacevoli foglie di Marijuana, la Maria come si dice qui a Roma. E poi, donna contenta di ciò, le avrebbe offerte durante i festeggiamenti collettivi per la giornata di San Patrissio, ai passanti presenti proprio per la parata. Dentro in pratica avevano questa lauta sorpresa, voleva creare un gesto di piacevole generosità, una goliardia, una goliardata, ma qualcuno non lo ha apprezzato. I biscotti sono stati assaggiati, qualcuno ha notato che qualcosa non andava e ha messo in alletta la polizia, polizia che hanno colto in fragrante la ragazza, o meglio la donna, vestita di un bel verde, gran cappello in testa, in mano a un sacco di biscotti che stava distribuendo tra la gente presente. Vi ringrazio infinitamente per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi, datemi la vostra opinione, non abbiate paura, e soprattutto attenti ai biscotti. Anzi, sto scherzando, chiaramente, mangiate i biscotti tranquillamente, questo è stato un caso isolato che non ha riguardato l'Italia, ma gli Stati Uniti d'America. Grazie ancora a tutti e al prossimo video da narratore italiano.